Tenere alta l'attenzione sui rischi informatici e sulle soluzioni più innovative attraverso il dialogo, il confronto e l'analisi dei principali casi di studio tra i massimi esperti della cyber security, con un focus rivolto anche ai giovani e alle scuole. È questo l'obiettivo dell'evento Cyberly Forecasting 2024, un'iniziativa di divulgazione, sensibilizzazione e approfondimento promossa da Berlity e Cyber con il patrocinio del Comune di Pescara. Una due giorni, 12 e 13 ottobre, all'auditorium Petruzzi di Pescara, che si propone di essere l'occasione per affrontare dal vivo i principali rischi della rete, analizzando il presente e provando ad anticipare il futuro per prevenire gli attacchi che mettono a rischio i sistemi informatici di enti, aziende e privati. È una due giorni di confronto, scontro costruttivo e di messa in evidenza dei punti di vista delle varie anime che costituiscono l'evento, quindi le aziende, la pubblica amministrazione, le istituzioni, le forze dell'ordine e la scuola, la formazione. È un evento che cerca di essere divulgativo e di sensibilizzazione su una serie di tematiche, partendo dal presupposto che c'è una grande carenza di formazione, soprattutto sull'apparato scolastico, sulle tematiche di sicurezza informatica, per andare a scalare poi con il punto di vista e l'integrazione delle istituzioni, delle realtà enterprise produttive del Paese. Questo per cercare di fare una rete sempre più compatta per arrivare fra qualche anno a consapevolezza e conoscenza della materia. In modo da avere anche la richiesta e colmare quel gap di professionalità che oggi è eccessivamente carente. Quali sono gli strumenti principali per la sicurezza online? Tanta attenzione, tanta cultura, tanta tantissima formazione e poi la tecnologia. Security è un processo, security è un approccio, security è responsabilità del singolo, poi declinata in un antivirus, una protezione dell'identità, un firewall. Quindi poi si arriva alla tecnologia, ma prima si lavora sul processo e sull'attitudine.